Oggi sono in compagnia di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, vale a dire i due smartphone lanciati da Google alla fine del 2023. E oggi li confrontiamo. Ci tengo innanzitutto a ringraziare FlashMac per avermi dato la possibilità di realizzare questo video avendomi inviato questi due dispositivi. Google ha lanciato Pixel 8 e Pixel 8 Pro annunciando una novità estremamente importante lato soprattutto intelligenza artificiale. I Pixel 8 e il Pixel 8 Pro non solo arrivano con un'estetica più raffinata rispetto a quello dello scorso anno, con materiali riciclati, leggermente stondati e un design che lo rende facilmente portatile, soprattutto il Pixel 8. Entrambi dotati di processore Google Tensor G3, quindi la terza generazione dei processori made in Google. Display che in entrambi i casi ha una luminosità di picco estremamente elevata, chiaramente molto di più nel Google Pixel 8 Pro. E fino a 7 anni di aggiornamenti software, sia di sistema sia di sicurezza, proprio per poter sbaragliare la concorrenza. Detto ciò andiamo a scoprirle e ci tengo prima di iniziare a dire che non c'è un migliore in assoluto, ma dipende naturalmente da quelle che sono le esigenze. Detto ciò, iniziamo. Partiamo da design e dimensioni. Entrambi gli smartphone seguono una filosofia estremamente minimalista, soprattutto moderna e con alcune differenze chiare tra i due smartphone che fanno la differenza. Il Pixel 8, dalla sua, è nettamente più compatto, con un display da 6,2 pollici. Progettato per essere tenuto benissimo in mano e soprattutto facilmente portatile. L'ideale per chi vuole uno smartphone facilmente trasportabile. Sia che lo dobbiate mettere in borsa, sia che lo dobbiate mettere in tasca. Le finiture sono in metallo satinato, per quel che riguarda il bando della fotocamera, e in vetro lucido, per quel che riguarda la parte posteriore dello smartphone stesso. E queste vanno a dare un aspetto nettamente più premium. Passando invece al Pixel 8 Pro, troviamo un dispositivo leggermente più grande, 6,7 pollici. Per dirvela tutta, sono 6,7 pollici che fanno la differenza. Di fatti, questo è un dispositivo obiettivamente grande. Il display, a differenza del Pixel 8, chiamato Actua, è un super Actua, con una velocità di picco nettamente più elevata. Si arriva fino ai 1500 nit. Per quel che riguarda la parte di design, il retro è in vetro opaco, mentre il bando della fotocamera e le cornici laterali sono realizzati in alluminio lucidato. A livello puramente estetico, entrambi sono degli ottimi smartphone, ma personalmente, per via delle ditate, preferisco il Google Pixel 8 Pro, proprio perché il vetro lucido, sebbene in questa colorazione grigio-verde, tende a trattenere un pochino di più le ditate. A livello di dimensioni, inutile dirlo, preferisco il Pixel 8. Facilmente trasportabile, sebbene bisogna scendere ad alcuni compromessi che vedremo più in avanti. Passando poi al display, partendo dal Pixel 8, oltre al display Actua da 6,2 pollici, abbiamo una risoluzione di 1080x2400 pixel, e Google ha dichiarato che il Pixel 8 rispetto al Pixel 7 è il 42% più luminoso. Passando poi al Pixel 8 Pro, in questo caso abbiamo un display super Actua da 6,7 pollici, con una risoluzione di 1334x2992 pixel. Entrambi supportano l'HDR 10 Plus, ed entrambi consentono il refresh rate fino a 120Hz, dinamico, ovvero gli consente di passare da 1Hz a 120Hz. Pertanto abbiamo un enorme risparmio di batteria. Per qualche sono le mie impressioni, il display del Pixel 8 Pro è un tantino superiore rispetto a quello del Pixel 8. Non che sia un pessimo display, tutt'altro, è un ottimo display, Però il fatto di avere un display così tanto grande, e una luminosità di picco così tanto elevata, lo rende obiettivamente un gradino sopra. Passando poi a quelle che sono le specifiche hardware, entrambi hanno un Google Tensor G3. Ed entrambi, a livello di benchmark, non hanno mostrato risultati strabilianti. Proprio perché Google ha dichiarato in partenza che dei benchmark non se ne sarebbe fregato assolutamente nulla. Li interessava ottimizzare il dispositivo, e c'è riuscita, in entrambi i casi. A supportare il lavoro fatto da questo Google Tensor G3 ci sono 12 GB di RAM nel Google Pixel 8 Pro e 8 GB di RAM nel Google Pixel 8. A livello di batterie, invece, sul Pixel 8 abbiamo 4575 mAh, mentre nel Pixel 8 Pro 5050 mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida a 30 W. E in entrambi i casi non è incluso l'alimentatore in confezione. A livello di connettività, entrambi supportano il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC e supporto al 5G. Entrambi i dispositivi hanno delle memorie UFS 3.1, che non vi nego che abbiano fatto stoccere un po' il naso a chiunque. In ogni caso, si comportano bene sia in lettura che in scrittura. Chiaramente, se paragonate alle versioni 4, sono leggermente inferiori. A livello di prestazioni, sono praticamente equiparabili. La differenza di 4 GB di RAM non si sente in alcun modo, a meno che chiaramente non andate a stressare il dispositivo o aprite applicazioni particolarmente pesanti, che di conseguenza richiedono tanta RAM. Pertanto, per quel che riguarda le prestazioni, li do assolutamente alla pari. Capitolo fondamentale è quello delle fotocamere. Ed è chiaro, da questo punto di vista, che il Pixel 8 Pro è nettamente più dotato rispetto al Pixel 8. Entrambi hanno una fotocamera principale da 50 megapixel, che a livello puramente di dichiarazione si è detto riesca a supportare il 21% di luce in più. Pertanto, questo corrisponde a foto più nitide. E non vi nego che risultati spettacolari riuscite a darli sia il Pixel 8 Pro sia il Pixel 8. Entrambi hanno una fotocamera grandangolare, sebbene sul Pixel 8 Pro sia da 48 megapixel. E questa differenza si nota a livello qualitativo. Inoltre, il Pixel 8 Pro ha anche il teleobiettivo, che consente il 5x ottico. Entrambi supportano le funzionalità di base dell'intelligenza artificiale, ma il Pixel 8 Pro ha delle funzionalità in più, che in ogni caso potrebbe avere anche il Pixel 8, ma per una scelta che ha fatto totalmente Google, non li va a supportare. Semplicemente, operazioni di intelligenza artificiale, come ad esempio il Video Boost, che richiedono il supporto da parte dei server Google, sono supportate unicamente sul Pixel 8 Pro. Semplicemente perché lo hai pagato di più. Inoltre, il Pixel 8 Pro consente di regolare manualmente tutte le impostazioni di esposizione, ISO o messa a fuoco. Di conseguenza, i fotografi e i professionisti dovrebbero scegliere proprio lui, il Pixel 8 Pro. Entrambi arrivano con Android 14, aggiornate dall'ultima versione per quel che riguarda gli aggiornamenti di sicurezza. Ed entrambi promettono fino a 7 anni di aggiornamenti dalla data di uscita. Tra le funzionalità più interessanti troviamo sicuramente la traduzione istantanea, anche questa supportata su entrambi i dispositivi. La possibilità di poter utilizzare l'assistente di Google per trascrivere immediatamente articoli o memo vocali. E un controllo della privacy che, obiettivamente, non è uguale. Entrambi i dispositivi possono essere dei veri e propri compagni di vita. E anche dal punto di vista software, devo dire che sono assolutamente alla pari. Venendo però a prezzi, pro, contro e conclusioni, è bene specificare che Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro si assestano su fasce di prezzo completamente diverse. Addirittura sono state dichiarate 599 dollari per il Pixel 8 e 899 dollari per il Pixel 8 Pro, che magicamente, nel momento in cui vengono importati in Italia, diventano 799 e 1099. Ma ad oggi è possibile trovarli ricondizionati sul sito FlashMac, che mi ha fornito questi dispositivi. Pertanto, vi lascio le offerte che FlashMac ha realizzato per noi direttamente in descrizione. Se invece foste interessati ad acquistarli nuovi, vi lascio direttamente i link con il collegamento ad Amazon con la migliore offerta disponibile al momento. Passiamo dunque ai Pro. Partiamo dal Pixel 8. Sicuramente il primissimo Pro è la versatilità, perché questo è un dispositivo che puoi portare tranquillamente in giro. Non è molto pesante, le dimensioni sono contenute. Secondo Pro, il prezzo, nettamente più accessibile rispetto a quello del Pixel 8 Pro, specie se lo acquistate nuovo. E terzo Pro, le prestazioni, che sono solide nonostante sia un dispositivo che si assesta sui medio gamma. Tra i contro troviamo la mancanza di un display estremamente più luminoso come quello del Pixel 8 Pro, le funzionalità premium dedicate al Pixel 8 Pro, tra cui appunto l'intelligenza artificiale sulla fotocamera, e la mancanza del sensore come il teleobiettivo o una grande angolare che personalmente ritengo eccellente sul Pixel 8 Pro. Qui la ritengo unicamente buona. Specie sui video tende a peccare. Passando invece al Pixel 8 Pro, tra i Pro troviamo sicuramente lo schermo, che è imponente, ma è anche eccellente. Secondo Pro sono le fotocamere, che sono davvero eccelse, e sono l'ideale per chiunque debba fare contenuti video, come nel mio caso, ed è il motivo anche per cui l'ho acquistato, e per chi vuole visualizzare tanti contenuti direttamente su questo dispositivo, proprio perché il display non affatica minimamente la vista, non essendo piccolo. Secondo, sicuramente il prezzo, è particolarmente elevato, specie se lo volete acquistare nuovo. Ricorrisionato Flash Mac è nettamente più accettabile, ed è il motivo per cui l'ho acquistato. Secondo Conto, le dimensioni, perché non sono alla portata di tutti. Non vi nego che quando mi capita di prendere in mano il Pixel 8, e poi torno di nuovo al Pixel 8 Pro, un po' ti manca la maneggevolezza del primo. In conclusione, la scelta tra Pixel 8 e Pixel 8 Pro dipende principalmente dalle vostre esigenze, e da cosa effettivamente dovete fare con questi dispositivi. Se cercate un dispositivo più maneggevole, meno costoso, andate tranquillamente su Pixel 8. Quello che fa, lo fa benissimo, sia a livello di foto, sia a livello di software. Per coloro che invece si concentrano molto sulla parte fotografica, e soprattutto realizzano tanti contenuti, anche video, è necessario andare sul Pixel 8 Pro. Detto ciò, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, e vi invito a lasciarmi un commento per farmi sapere quale sceglierete e perché soprattutto. Vi lascio tutte le offerte dedicate, realizzate per noi da Flashmake, diversamente in descrizione o nel primo commento. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, vi invito a lasciare un like, e io vi aspetto nel prossimo video. e io vi aspetto nel prossimo video.